Ok, ciao, siamo Kit Moore, e siamo a casa mia, che stiamo facendo le foto. Sono assurde, che in pratica le viena a metà, io non vengo, perché io vengo, però le viena a metà, va bene. E infatti, niente, non mi esiste andare per shopping adesso, che noi non viviamo senza shopping. Esatto, andiamo a comprare delle cose, e niente, in pratica ormai io e lei stiamo sempre insieme, come questi di voi avevano visto. E la cosa, pare che ci sta, cioè, oddio, noi siamo legate. Infatti. Ma voi ci state proprio scocciando questa storia, che non possiamo stare insieme, ma chi l'ha detto? No, infatti, cioè, poi tutti questi problemi che vi create, cioè, semplicemente non è stato insieme in mente, cioè, ormai perché noi, cioè, io ho trovato lei, diciamo, l'amica che comunque aveva trovato. E quindi adesso, diciamo, trovate, quindi siamo sempre insieme, ormai siamo unite. Ma poi, cioè, voglio dire, se lei trovava un'altra amica e un'altra amica, nessuno diceva niente, nessuno ha mai detto niente su nessuno. I quali proprio si è scatenato all'inferno, ma non si è capito, ma perché? Infatti. Eh, boh. Non si capisce proprio, cioè, quindi, cioè, vedete, siamo un po' i cazzi vostri, ecco. Sì, e magari spessicolate su persone che sono messe molto peggio di noi. Infatti. Perché noi alla fine non siamo sempre diventati amiche, hanno messo tutto niente. Infatti, cioè, è condannata come se siamo fatto, chissà che cosa, che poi, boh, spessicolate su qualcosa che, su persone che veramente c'è qualcosa da dire, e non sono comunque niente da dire alla fine. Infatti, cioè, allora, se volete tanto parlare, parlate con noi, e noi vi risponderemo solamente che siamo amiche, scopo, questo ci basta. Quindi, è utile che ha fatto tutti questi scopo spunti, perché il frammento si è diventati proprio noi. Eh, niente, vabbè, quindi io ormai a lei la voglio scopo bene. No, no, è stupenda, la ragazza meravigliosa. E non dite che è photoshopata, perché non è vero, perché come vedete qui, anche lei lei è stupendissima più delle foto, quindi, cioè, e va che vi dà le palle, guarda, vi giuro, chi le fa del male, cioè, è morto. Infatti. Concordo con lei. È morto. Don't ask my kids, ma perché lei ormai è mia, e quindi, cioè, smettetela. Smettetela. E niente, vabbè, adesso andiamo a non... Massi, dai, no, grazie a tutti, ciao. Bye, bye. Bye, bye.